Prima che tutto accada, prima che le cose comincino a marciare, c'è bisogno di colei, di colei che tutto muove, di quella casualità che fa della nostra vita un grande punto interrogativo, la meraviglia di madre natura. Grazie a tutti. L'aggello dei miei ormoni, donna meravigliosa, affascinante tutta da casello a casello, donna incredibile, da lei tutto nacque, da lei tutto apparve per la prima volta, io di fronte a tanta bellezza mutomi fuori. Signorina mi perdoni, mi perdoni questo increscioso inconveniente che è appena occorso, le chiedo scusa a nome mio e della grande gloria italo-tunisina Johnny Dorelli, e porti un saluto immenso alla sua fantastica terra di Tunisia da dove lei proviene. Ah, ma lei conosce la Tunisia? Se la conosco, l'ho vista nascere. Ok. Io ho percorso in lunga e in largo quella meravigliosa terra del Nord Africa, ricordo il bianco e il blu di Sidi Boussaid, ricordo Matt Matanefta, Ger Baladus, ricordo Tobruk, l'unica cosa che non sono riuscito, Cartagine, 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 ma mi sovviene che in quel lungo peregrinare mi sfuggì una visita da quale tenevo particolarmente, la splendida città di Delenda, non la trovai. Delenda? Delenda, Delenda. Delenda non esiste. Delenda non esiste? Lei è giovine, certe cose non le può sapere. Delenda esiste come si trova ad est di Cartagine, ricordo perfettamente. Cartago Delenda esiste, c'era la scritta. Ma è latina. Eh? È latina. Ah, è a latina, dice. Se è a latina mi sono confuso io, sa, viaggia di qua, viaggia di là. E sì che la pontina l'ho fatta tante di quelle volte. Prego, prego, materatura, prego. È a latina, hai capito dov'è? La voglio a cercarla in Tunisia. Eh, vabbè, che gli vuoi dire? Che sia a latina o in Tunisia? Bene!